Buonissimo! Ma quanto ti paghiamo noi per smerdare la nonna? Buonissimo! Ma quanto ti paghiamo noi per smerdare la nonna? Buonissimo! E' il predaltrip dei supermercati l'Ucraina, i suoi occhi congelati sui prezzi è una sfilata ai supermercati benissimo e il fidanzato è bugerato 50, 60, 70 anni tutta in fila al supermercato col fidanzato, col fidanzato ancora va l'Ucraina e si sposerà un italiano buona fuori buona fuori 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 buona fuori 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 e furba dentro E' un prodotto dell'est attenzione nessuna restituzione io ho pagato questo 60 centesimi buonissimo 5 per miglior io ho pagato questo 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 40 centesimi buonissimo è un po' Grazie a tutti